Vandagli in azione alla casina dei ricordi in via Ponchielli che è stata realizzata per ricordare le 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 a Via Reggio. Nella nottata tra sabato e domenica è stata forzata una finestra e poi i malintenzionati una volta entrati dentro, probabilmente alla ricerca di soldi, hanno messo completamente a soccuato la casina, con popazzi buttati per terra insieme agli altri oggetti che sono stati donati da chi ha voluto lasciare all'interno di questo luogo, qualcosa in ricordo di chi purtroppo quella notte maledetta ha perso la vita in seguito all'esplosione della cistena di GPL del treno in transito dalla stazione di Via Reggio. Non è la prima volta che nel corso degli anni la casina dei ricordi è stata oggetto di vandalismi. A scoprire quanto accaduto è stato Giuliano Bandoni, rappresentante del gruppo motociclistico delle Tartarughe Lente, che si occupano della gestione e della cura della casina dei ricordi, che ha allertato i carabinieri che sono giunti sul posto per un sopralluogo. Grazie a tutti.